Adesso ti dirò una cosa che la tua amica ha paura di dirti, la tua amica leale e fedele ha sempre incolpato te, per qualsiasi cosa, ho trovato un accendino nel tuo zaino, chi è? La Carlotta, la Carlotta ha iniziato a vendere candele, si, si e allora, ma come mai le tue magliette puzzano di fumo? E la Giulia e la Chiara fumano, eh sì mamma, io gli ho detto, ragazze smettetela, ma niente, non mi ascoltano, sono le 10.10, dovevi essere qui alle 10.00, perché hai fatto ritardo? Colpa della clarissà, sì, volevo uscire di casa, lei, no, tu non puoi lasciarmi da sola, io lasciami in pace, voglio tornare a casa da mia madre, lei non mi ha certo, mi ha preso, mi vale un po' Ah sì? Eh sì, è tutto colpa della clarissà, sempre lei, mamma Quindi non hai chiesto ai genitori della clarissà di adottarti perché io non ti compro la nutella? E il loro frigo li farei sempre pieno? Aspetta, posso spiegare È colpa della clarissà